PIT, acronimo che sta per Progetti Integrati Territoriali, fondi cioè da spendere per sostenere l'economia e lo sviluppo locale. Comincia da qui l'azione amministrativa del neopresidente della provincia dell'Aquila, Antonio del Corvo, che oggi ha fatto visita agli uffici ospitati nei container di Via Angelo Pellegrino, dove ha fatto una prima conoscenza dei dipendenti. Tra gli ambiti di intervento, l'Aquila, Vezzano, sul Monalto Sangro, con oltre 5 milioni per contribuire al 50% fino ad un massimo di 60.000 euro, a progetti presentati da piccole e medie aziende, anche in forma cooperativa, che intendono investire nell'innovazione, nell'energia pulita, nel miglioramento della sicurezza del lavoro. Nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri dove andremo a disporre queste misure di intervento. Il bando scadrà il 12 giugno. Sono oltre 5 milioni di euro, che è uno degli assi previsti in questa programmazione. Stiamo lavorando anche sull'attivazione degli altri assi. Sono risorse che vanno proprio a favore dello sviluppo delle piccole e medie imprese, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo degli investimenti. Questo è l'obiettivo. Nel passato misure simili hanno avuto accoglienza e sono state utilizzate per intero le somme a disposizione. Sicuramente sarà così anche questa volta. Altro impegno del Presidente del Corve è quello di riuscire ad accorciare, finalmente, le distanze tra Roma e la provincia aquilana. Per quanto riguarda il trasporto su ferro, il proprietario dell'opera pubblica sta lavorando su un bando che è uscito a breve per quanto riguarda l'elettrificazione dell'Aquila sul mondo. Io ieri sono stato al Ministero e stiamo lavorando invece per riattivare un finanziamento che viene da diversi anni fermo al Ministero per quanto riguarda la velocizzazione della sul monavezzano Roma. Credo, credo che forse nei prossimi mesi riusciremo a portare la casa. Ci stiamo lavorando. Velocizzazione cosa significa, facciamo capire i cittadini? Velocizzazione significa messa in sicurezza della rete ferroviaria, eliminazione di alcuni ponti critici che permetteranno ai treni in percorrenza di poter raggiungere le mete con dei tempi molto inferiori.